Questa mattina presso il mercato comunale della ex manifattura tabacchi in via Nicolai si è tenuta un'operazione congiunta della polizia locale e polizia di stato con il supporto della guardia di finanza e carabinieri per contrastare l'abusivismo commerciale e il microcrimine. I controlli sono partiti all'alba ed hanno interessato tutti i box circa 200 che non sono più occupati da attività commerciali. Le operazioni di controllo si sono rivelate più complesse del previsto ed hanno richiesto l'ausilio della multiservizi per permettere alle forze dell'ordine di accedere e di ispezionare i locali grazie anche all'ausilio dell'unità cinofila antidroga della polizia di stato. Durante i controlli sono stati sequestrati 15 kg d'olio, 14 litri di alcol, frutta e verdura di dubbia provenienza e sanzionate due persone con multe che ammontano a 5.000 euro per reati amministrativi. Le operazioni di pubblica sicurezza che questa mattina hanno interessato alcuni ambienti della ex manifattura dei tabacchi sono il migliore esempio di quella collaborazione istituzionale che abbiamo ricercato sin dai primi giorni del mio mandato. Commenta così il sindaco di Bari Vito Leccese l'intervento delle forze dell'ordine e prosegue. Da tempo avevamo denunciato la situazione di illegalità che si andava intensificando nei luoghi della manifattura non ancora oggetto di riqualificazione. Purtroppo anche l'impegno costante della polizia locale in alcuni casi non è stato sufficiente a contrastare abusi e pratiche al di là del lecito. In questi casi l'unico modo per intervenire in maniera efficace per contrastare situazioni di illegalità è sotto la direzione e il coordinamento delle forze dell'ordine che intendo ringraziare ancora una volta.